La dichiarazione universale dei diritti umani compie 75 anni, il Consiglio regionale dedica una celebrazione con gli studenti. Qual è l'eredità oggi di questo importante documento? Una gravosa, anche se attuale, modernissima eredità, cioè quella di riaffermare in ogni contesto la tutela degli diritti della persona che non possono essere messi in discussione di fronte a violenze, di fronte a sovrappazione, di fronte a sobrusi, di fronte all'impossibilità di esprimere questi diritti in ogni contesto.